arrivati ai primi due gruppi a questo punto io farò una cosa, chiamerò qua sul palco i due gruppi in un ordine qualsiasi, quindi non sapete che sarà il primo e il secondo da subito naturalmente avete già ascoltato, voglio dire, insomma, è la serata, è tutto quanto quindi a questo punto invitiamo i due gruppi sul palco i due gruppi sono The Glamis tu sei già sul palco, quindi i gran soldi per arrivare al suo Back! 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 igned H Allora due cose, prima di tutto vi spiego il gruppo vincitore, andrà come sapete a Milano, all'Alcatraz di Milano sabato 23 giugno a rappresentare Roma per cercare di qualificarsi per la finalissima mondiale di Rock and Roll Potter Powder in Germania. Il gruppo secondo classificato avrà un grande concerto promozionale a Parigi. Diciamo che, per fortuna, sia il primo sia il secondo, davvero essere felici di essere a casa in questa posizione. Detto questo, voglio sentire sempre il solo applauso, abbiamo già detto. Sono due grandi gruppi, hanno meritato di arrivare fino a qua, ma il vincitore dell'edizione 2012, la vintesima edizione di Emergenza Festival, sono i The Black. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.